Buonasera, eccoci di nuovo in compagnia del dottor Umberto Carini per continuare il nostro Escursus e sui Santi, i Beati, la storia ma anche le leggende legate ai personaggi che abbiamo esaminato. Abbiamo parlato di San Lorenzo, abbiamo parlato del Beato Padre Giovanni, ci siamo lasciati l'ultima volta con la morte del Beato Giovanni e con l'invito suo a considerare maggiormente questo Beato che secondo il Vescovo non diventerà mai santo ma che rimane sicuramente nel cuore non solo dei Batignanesi ma dei Maremmani. Ed è appunto che mi volevo allacciare a questo personaggio, sempre al Beato Giovanni, ricordando che prima di essere autorizzato dagli Agostiniani Scalzi a rimanere a Batignano nel convento e poi a morire addirittura a Batignano, lui pregava durante anche nel ritorno dai suoi viaggi presso i potenti o presso paesi e città dove andava a tenere i suoi interventi, lui stava all'eremo di San Guglielmo e quindi l'eremo si chiama di San Guglielmo e quindi è importante credo parlare anche di questo santo così caro ai Grossetani che è festeggiato da noi in diverse località tra l'altro Castiglione della Pescaia in primis. Sì, appunto rifacendosi, buonasera a tutti, al nostro padre Giovanni di cui parliamo la volta scorsa, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, vediamo come lui cala in Maremma proprio per visitare l'eremo dove per tanti anni aveva morato e fatto aspra penitenza San Guglielmo e lui lo definisce Duca di Aquitania e Conte di Poitiers per pregare di fronte all'eremo di quel re penitente. Ecco che quindi già nel 600 era in auge questa famosa leggenda, questa famosa querella sulla origine di San Guglielmo. Infatti San Guglielmo era un santo che comparve improvvisamente nelle selve di Castiglione per creare il proprio eremo ma di cui non sappiamo l'origine o comunque l'origine è sempre stata molto diciamo misteriosa e anche particolarmente interessante da un punto di vista leggendario. Infatti noi sappiamo avanti con la prossima diapositiva che Guglielmo X di Aquitania, siamo nel 1137 quindi insomma siamo in pieno Medioevo, sparì durante un pellegrinaggio durante la sua andata a Gerusalemme e scomparve per, secondo la leggenda, venire a fare l'eremita in Toscana. Diciamo che in realtà questo personaggio è stato studiato in più modi anche con metodologia scientifica, per esempio la tecnica del DNA che ha notato e ha messo in evidenza la possibile origine nordica del personaggio. Quindi sembrerebbe tornare la leggenda che tutti noi in Baremma portiamo avanti, la leggenda di questo santo e potrebbe essere legata a lui anche la famosa spada nella roccia di Montesiepi di Chiusdino. In queste due immagini si vede bene il santo e la spada nella roccia, le fa vedere la regia. Ritroviamo un personaggio, un professore di cui si è parlato anche la volta scorsa, il professor Gallaschelli, ricercatore di chimica organica di Pavia, che parla e dice che la spada di cui si è parlato per il sangue di San Lorenzo a Maseno, dice che la spada nella roccia di Chiusdino è strettamente legata ovviamente alla leggenda di Re Artù e mette in relazione i due personaggi, cioè San Guglielmo e San Galgano. E quindi questo è particolarmente interessante. Vediamo qualche analogia tra questi due personaggi, tra questi due santi della nostra area maremmana, anche se uno è prevalentemente dell'area senese. Infatti San Galgano, che è vissuto dopo San Guglielmo, ricordiamoci San Galgano divenne, andò a fare l'eremita nel 1180, quindi 50 anni dopo l'arrivo di San Guglielmo a Malavalle, vediamo quali sono le affinità fra i personaggi, fra San Guglielmo e San Galgano. Ambe due erano cavalieri, ambe due decisero di dedicarsi alla vita eremitica e quindi di fare un'espiazione della loro vita terrena. Entrambi avevano abbondanti legami con la materia arturiana, quali erano? San Galgano ovviamente infisse la spada della roccia e fece l'opposto di quello che aveva fatto Re Artù, che l'aveva estratta, va bene? Quindi però c'è sempre una spada infilata in una roccia. Ma poi c'è anche un altro particolare che noi dobbiamo prendere in considerazione. Guglielmo X, il personaggio di cui San Guglielmo dovrebbe essere ovviamente l'espressione, era padre di Eleonora d'Aquitania, che era stata sposa del re di Francia e poi dopo essere ripudiata di Enrico d'Inghilterra. Guglielmo X era un trovatore, cioè chi cantava le leggende della chanson del gesto. De Troye, Crétien de Troye. Crétien de Troye, che è l'atore appunto delle romande Persefal, dove si parla di tutto il mito arturiano e di tutte le leggende dei cavalieri della tavola rotonda. Quindi è vicino a noi anche, alla nostra associazione è un troviere, è un cantastorie. Quindi ecco che Guglielmo è anche, forse è stato un cantastorie e comunque sia, senz'altro ovviamente ci deve essere un legame importante. Poi oltretutto nelle storie di San Galgano viene riportato avanti con la prossima. Ah no, qui poi ci sono anche altri legami che sono un pochino più fantasiosi, ma perché non ricordarli? Per esempio il fatto che San Galgano, tra i cavalieri della tavola rotonda c'era uno che si chiamava Galvano, quindi analogo a San Galgano. Potrebbe essere molto perlomeno simile, vicino. E poi c'è un'altra storia importante, è veramente strana questa. A Roccamadour in Francia c'è un santuario con una spada infilata nella roccia. Va bene? Quindi in Francia abbiamo anche lì una spada nella roccia che sembra che risalga appunto al 200. Bene, a questa località Roccamadour si recò in pellegrinaggio Eleonora d'Aquitania, la figlia di Guglielmo X. E qual è la cosa più strana di tutte? È che l'unico altro luogo dedicato a Maria di Roccamadour si trova in provincia di Siena, a pochi chilometri dal nostro Chiusdino. Quindi a pochi chilometri dal Chiusdino, a Murlo, nell'erimo di Montespecchio, detto il conventaccio, c'è anche qui una Santa Maria di Roccamadour. Ma è difficile spiegare queste cose? Difficile, molto difficile spiegare queste cose. Tra parentesi è un edificio, anche questo per gli escursionisti lo consiglio, molto bello, perché è una zona in per via. Tra l'altro dice, vedo, che è fatto in pietra rara, questa serpentinite. E quindi, diciamo, è senz'altro un'esperienza quella di andare nei nostri boschi a fare trekking. Va bene? Questo è anche un invito a conoscere il nostro territorio, a scoprire il nostro territorio. E quindi, tornando a San Galgano, si dice che comunque sia, bisogna anche tornare col piedi sulla terra. San Galgano, come si è detto, si è fatto santo quando ormai San Guglielmo era già morto e la leggenda della spada si diffonde nel 1200, quando anche San Galgano era morto. Quindi potrebbe darsi anche che la spada non sia stata infissa da San Galgano, ma dai frati di Montesiepi che ne volevano tramandare la storia e il messaggio del cavaliere che in quel momento aveva abbandonato la sua vita di armi per fare una vita, diciamo, di riflessione e di preghiera. Quindi diciamo che la vicenda comunque della roccia, della spada di questo territorio e quindi ci riporta alle vicende dei nostri grandi santi e dei santi anche i nostri vicini, cioè della provincia di Siena. Ma sono interessanti. Ma guardi che secolo questo qui, che è stato, questo 1100, no? Certo. E siamo noi, intanto si nasce come città anche noi. Sì, mora nel 1137 il nostro amico, ma noi nel 1138, quando noi si diventa città anche noi, no? Con l'innocenzo che trasferisce la diocesi da Roselle a Grosseto. Ma lei pensi quante cose stavo facendo? Quante correlazioni ci sono? Quante correlazioni ci sono dal 1130 in poi, insomma, voglio dire. È tutto legato, ma lei guarda, ma insomma. E niente, quindi a proposito di santi cavalieri, parliamo di santi cavalieri e vediamo come nel nostro territorio ce ne siano in abbondanza di santi cavalieri e comunque di cavalieri soprattutto, avanti la prossima, uccisori di draghi. Va bene? Anche questo è un'altra caratteristica delle nostre leggende. Eh sì, l'abbiamo detto che faremo di leggende anche. Nei nostri boschi, nelle nostre selve così fitte, così importanti, ci sono tutta una serie di santi che si dilettano, tra virgolette, ad uccidere draghi e a sconfiggere quindi il male. Lei poi è specializzato in questa cosa, perché Montorgialino, il drago è di casa. Dunque ne ho elencato quattro di dragottoni della Maremma, va bene? Che interessano tutte le nostre aree. Il nostro San Guglielmo, da dove siamo partiti e dove partiamo, poi c'è nelle isole San Mamiliano, poi abbiamo il Conte Sforza a Santa Fiora ed infine abbiamo il nostro San Giorgio a Montemirano e Montorgiali. Ci fermiamo solo un attimo e poi riprendiamo con il Dottor Carini. Pubblicità. Eccoci qua, di nuovo in diretta Dottor Carini. Continuiamo pure nel parlare dei nostri Santi. Molto rapidamente raccontiamo queste quattro storie. Sì, raccontiamole, mi interessa molto. Perché sono particolari. E avanti con la prima. Naturalmente San Guglielmo, tutti sanno che Guglielmo, avendo scelto un altro dove divorarvi, trovò dentro un drago che terrorizzava gli abitanti, lo toccò e con un semplice tocco di bastone. Io farei vedere anche lui in primo piano con, ecco, quando naturalmente fa fuori il drago, vedete, con il suo pastorale, vedete, c'è un pastorale in mano e lo tocca, fa il segno della croce uccidendolo con un semplice tocco del suo pastorale. Non si può avvicinare, vero? Ho capito. Benissimo. È un motivo importante e lo dico subito per chiarire un po' di punti un po' particolari della nostra storia. È che nella iconografia dei Santi che sono vissuti nel nostro territorio si sono inserite tutta una serie di leggende, di credenze che appartenevano al paganesimo. appartenevano al paganesimo. Nelle selve di Castiglioni era frequentissimo il culto di Ercole. Va bene? Allora ecco che tra gli abitanti, i semplici abitanti del luogo, si è inserito la figura di San Guglielmo che anche lui con una clava, con un bastone, riesce a domare l'idria come Ercole e il drago. Ecco che quindi la figura del santo si traspone alla figura precedente di una caratteristica invece pagana del territorio. Questo per capire come i culti si trasformino nel corso dei secoli per, diciamo, dare la possibilità ai semplici, ai poveri, ai più di capire e spiegare certe trasmigrazioni. Bella questa cosa, interessante. Quindi lasciamo San Guglielmo e il drago e passiamo per esempio a San Mamigliano. San Mamigliano è precedente, ovviamente appartiene al periodo romano. Altro drago. E qui i draghi sono addirittura due, uno a Monte Cristo e uno a Giglio. Al Giglio. E quindi il nostro San Mamigliano, ora qui vi parlo di quello di Monte Cristo che avendo sempre trovato la tana del drago nel, diciamo, al monte più alto dell'isola li balza in groppa, gli si attacca al collo e con la forza e la sua abilità lo strangula. Anche lui era un cavaliere, un cavaliere berbero perché San Mamigliano viene dal nord Africa quindi ecco che questi flussi migratori erano presenti anche allora e San Mamigliano appunto era arrivato dal nord Africa, cercava chiaramente un rifugio nelle nostre terre e riesce a uccidere questo drago con la semplice forza delle mani, non con lancia né con spada, ma con la semplice forza delle sue mani. Naturalmente da questo scaturiscono le scaglie d'oro che sono caratteristiche dell'isola delle cannelle di Monte Cristo e ha anche un'acqua che sembra essere curativa nell'isola di Monte Cristo. Ma che bello! Lei tra l'altro ha scritto un libro su questo, su Monte Cristo, un libro interessante tra l'altro l'ho letto perché partendo da un familiare insomma poi racconta, gli dà la possibilità di raccontare anche tante storie su Monte Cristo. Poi proseguendo con gli eroi ammazzadraghi in Marim si passa sulla miata quando gli sforza erano subentrati all'Aldo Brandeschi e si racconta che c'era un drago, un cifero serpente nei boschi della selva vicino a Santa Fiora e Guido Sforza, che era il principe ereditario del trono di Santa Fiora, adesso lo faccio breve, decisi di andare da solo e di uccidere, di sconfiggere il mostro. Quindi attirò il drago con il suo scudo lucidato a specchio, il drago vedendo un'immagine di riflesso uno specchio, pensava che fosse un altro suo concittadino, coetaneo e in questo modo Guido Sforza lo infilzò. In realtà, tra parentesi, per questo gli taglio la testa, la testa la potete vedere, anche questa è un'altra bellissima gita al convento della selva in cui si trova la testa ancora osservata. E la testa toglie tutti i misteri, in realtà è una testa, si vede, sembra di coccodrillo, va bene? E quindi probabilmente sembra, un po' la storia riferisce, che Guido Sforza avesse un allevamento di coccodrilli e questo non fosse altro che uno dei suoi coccodrilli scappati dall'allevamento e lui si fece forza. Diventa un personaggio leggendario. Legendario, si fece forza di questa. Comunque la testa del nostro mostro, del nostro drago, si trova sempre alla clinica. Sì, alla linea, alla chiesa. Trinità dei Monti. E alla selva invece viene costruito. Sì, e c'è questo e alla selva però, la reliquia. E quindi, ripeto, altra gita per la nostra barebba, chi vuole andare, dopo Santa Fiora, fra Santa Fiora e Castellazzara, c'è il convento della selva. Molto bello ed interessante. E vediamo, per finire, all'ultimo, e naturalmente non potevo non parlare di lui, di San Giorgio. E lei, del suo luogo natio. Precisamente. Però San Giorgio ha una cosa particolare, una caratteristica particolare a cui tutti non pensiamo. Mentre tutti gli altri santi eroi erano personaggi vissuti effettivamente qui, per San Giorgio non è così. San Giorgio è un personaggio del tutto leggendario, del tutto, diciamo, inventato per questa terra. Va bene? E allora come si fa a ambientarlo nelle nostre località? Bene, il volgo, la gente, il popolo, anche i religiosi hanno fatto molto bene, molto presto. Non hanno fatto altro che identificare dei luoghi o delle circostanze in cui San Giorgio si sarebbe passato. Hanno costruito una storia, varie storie. Hanno costruito il punto dove c'erano le pietre. Dove si era per il ginocchio del cavallo. Dove era la fonte dove si abbeverava. La fonte del drago. Quindi, ecco, localizzarlo nel territorio, non certo la figura storica, ma l'episodio, va bene, viene localizzato nel territorio. Ed ecco che il nostro San Giorgio, che a Montemerano caccia il drago e lo scaccia, lo fa fuggire, e finalmente a Montorgiali lo uccide. In tutti e due i casi, naturalmente, avrebbe salvato la comunità e i giovani fanciulli in difficoltà. Questa è la figura del drago. Qui vedete accanto una figura di un personaggio in costume di antico romano in una delle tante rappresentazioni. Ma ci sono sempre? Te lo fanno sempre? Sì, sempre. Continuano tuttora e c'è tutta la sfilata, la cavalcata. L'ho partecipato una volta, se ricordo. Sì, tutta la sfilata, la cavalcata, che chiaramente vuole, preceduta da alcuni figuranti vestiti in conabili antichi romani, e poi tutti i cavalli che seguono e fanno tre volte il giro del paese, vanno fino al santuario di San Giorgio e poi ritornano al paese. Quindi, diciamo, è una festa tipica del folklore del Montorgialese e naturalmente mare in mano. Quindi concludiamo la nostra carrellata di oggi con questo discorso. Naturalmente, dei draghi e di queste entità misteriose è disseminata tutta la nostra maremma, insieme a Cavaliere Erranti, eccetera. Questo perché? Perché si è sempre voluto conciliare il sacro con il profano, perché si è sempre voluto mettere in evidenza la lotta eterna fra il bene e il male. E queste sono chiaramente le caratteristiche che vogliono un pochino contraddistinguere gli eroi del bene che riescono sempre a prevalere. Ma consideriamo che, come ho detto e come con questo vorrei concludere, che è così che si costruiscono la cultura popolare di un popolo e la storia della nostra terra. Perché è così che chiaramente noi possiamo raccontare le nostre origini e, anche se possono essere più o meno inventate, più o meno leggendarie, però costituiscono la base di un sostrato che riguarda la nostra terra. E noi cerchiamo di fare proprio questo. Anche queste trasmissioni, vorrei dire, chiamo in causa Corrado Barontini, Mauro Chichi, Piero Meni, insomma tutti i nostri amici, Roberto, tutti quelli che fanno parte dell'associazione. E questo è un bel impegno, quello nel cercare di portare avanti le tradizioni, siano esse usi e usanze di vita vissuta davvero o siano espressioni di leggende, di invenzioni, come San Giorgio. E non è stata la scuola, perché anche dei personaggi di cui abbiamo parlato, dei santi e dei vari santi o dei vari beati, c'è sempre una parte leggendaria che accompagna la loro vita. Ed è quella che ha creato l'alone poi intorno a questi personaggi che sono rimasti di grande attualità e che oggi sono o dei campioni della fede oppure dei testimoni del territorio, no? possono diventare. E noi vogliamo questo. E' proprio questo, cioè servono per creare una coesione di una comunità, un riconoscersi in un passato comune e in una storia comune. Lei è un'evidente prova, Montorgiali continua, lei ha detto chiaramente che si tratta di una leggenda totale, un personaggio mai esistito, però si continua a ricordare. Perché? Perché tiene compatta intorno ad un valore vero o fittizio o inventato, come le pare, per la comunità locale è importante. Se non ci fosse stato, bisognava inventarlo oggi, no? Qualcosa del genere per tenere unità. E quindi perché le tradizioni sono importanti? Per questo motivo. Perché noi cerchiamo di farle capire, di farle apprezzare, di farle metabolizzare, di far capire perché siamo così, perché ci sono state anche queste situazioni che ci hanno legato. E soprattutto qui, Maremma, dove la situazione è sempre stata difficile e dove avevamo bisogno di mostri, di retti, di serpenti, qualcosa per ingigantire anche la nostra, naturalmente, capacità di creare una comunità dove era difficile crearla. Quindi anche questa unione sempre che caratterizza le nostre terre, a fine conti caratterizza anche Grosseto, no? Con la nostra festa del Santo Patrono, che ha delle caratteristiche religiose, ovviamente, ma anche laiche, perché è una processione che coinvolge cavalli, che coinvolge le istituzioni, eccetera. Quindi è sempre un qualcosa che deve caratterizzare un po' questi aspetti fondamentali della vita della nostra terra. Bene, dottor Carini, io la ringrazio di nuovo. Io non finirò mai di ringraziarla perché lei non sa quante persone stiamo veramente interessando. Guardi, lo voglio dire, ma anche per farle un complimento, che continuamente ci fermano anche per la strada, perché potrei raccontare degli episodi che preferiscono raccontare, di persone che chiedono, naturalmente, tutte le trasmissioni, o poi chiedono, addirittura, insomma, tante cose, tanti episodi, ma la gente di Maremma si mostra sempre interessata, vede quello che abbiamo detto alla fine, anche oggi succede. La gente di Maremma si mostra sempre interessata, sempre di più alla sua storia. Sta, ha capito e continua a capire che vive in un territorio ricco, naturalmente, di tradizioni. E quindi anche di cultura, se vogliamo, perché tradizione e cultura non sono termini antitetici, anzi, vorrei dire si integrano e come se si integrano. Quindi stiamo facendo, sì, qualcosa di buono anche per il nostro territorio e per la socializzazione, cercando di far capire anche ai nuovi grossetani, a quelli che arrivano, che cos'è che ha fatto definire, in sostanza, il nostro, la nostra comunità, un popolo, il popolo Maremmano. E anche di questo forse un giorno parleremo. Grazie, dottor Carini, per la sua bravura e per la sua veramente dedizione alle nostre tradizioni. Grazie a voi, gentili telespettatori, per averci seguito. Buonasera.